Video dedicato ai piccoli Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te Questa è Arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Mamme, papà, avvicinatevi Vi faccio provare un prodotto fantastico Oggi parleremo di una nuova tempera, la tempera solida E sì, finito il tempo in cui la casa ci veniva imbrattata No vabbè, che si sporchi casa per la creatività dei bimbi non è importante Ma ci sono situazioni in cui è davvero difficile dare ai nostri bimbi Tempere, bicchiere, pennello e dire ok, crea in libertà Perché magari non si può, perché magari non si può sporcare in quel momento Perché magari non siamo a casa nostra O perché magari non ci va di ripulire E allora vi offro una varia alternativa Che qui dico essere per i piccoli Ma che può avere interessanti risvolti anche per gli adulti È nata la tempera solida Nella Instant Allora, questa tempera solida Guardate come si presenta Sono dei piccoli stick, si toglie il tappo E come vedete subito c'è il colore Che viene fuori girando l'astuccio nella parte inferiore È proprio con la stick normalissima E si passa direttamente sulla tela Sui fogli da disegno Insomma, è una cosa immediata Ma la cosa stupenda di questa tempera solida È che è subito asciutta Cioè, voi la passate e si comporta come un pastello a cera Come un colore a matita Non avete bisogno di attendere il tempo di asciugatura Se dovete fare una gita, se dovete andare dai nonni E non volete trasportare un ambaradan di materiali Questa potrebbe essere una validissima soluzione Anche perché la resa pittorica è veramente, veramente valida Non mi credete E allora spostiamoci sul piano da lavoro E andiamo a provare la tempera solida della Instant Ed eccoci pronti per provare i nostri Instant Play Color Della Wigo Allora, cominciamo subito Io prima userò i miei, i miei sample E poi, se sarà necessario, userò anche i vostri Perché è ovvio che se devo provare i colori Devo provarne il più possibile Allora, e proverò su due supporti Da una parte la carta, la semplice carta Guardate cosa qua Il disegno dei diplomini No, scusate Vabbè, divagazione, divagazione Da una parte la semplice carta E dall'altra parte invece per i grandi Perché a me queste tempere solide Stanno piacendo anche per i grandi Le proverò su un blocco di tele Cioè questa è tela E sulla tela voglio farvi vedere come risulta L'immissione del colore Tutti e due, sia blocco di carta che blocco di tela Io li ho comprati al Lidl A prezzi veramente, veramente bassi Quindi dateci sempre un occhio Io apro anche la confezione che metto in regalo Alla fine del video Perché voi lo sapete Beh, li regalo Ma prima, ovviamente Già che me li hanno dati per provarli Li devo provare Anche per farvi vedere come colorano Per tutti gli altri che non li riceveranno Questa confezione contiene 12 colori Dal bianco, quindi si può lavorare Presumo anche su cartoncino nero O vediamo se per sovrapposizione Al nero Passando giall, arancio, rosso, rosa Verde pirato, verde scuro Azzurro, blu, viola, marrone e nero Qua ci sono, dentro troverete Il foglietto illustrativo E naturalmente qua si dice Prodotto verde Lavabile in acqua E si può anche Mettere sul Può anche essere messo a contatto con il derma Non succede nulla Quindi sono 100% sicuri questi colori Per i bimbi E ci piace questa cosa Ci piace tanto Perché ci danno la possibilità Di lavorare in libertà Adesso proviamo il rosso Allora guardiamo come si presentano Si presentano come delle colle stick Avete presente Che ne so, la prit Ecco, si presentano in quel modo E il tratto È un tratto molto colorato Vedete, molto coprente È molto Cero Fluido Sembra quasi olio Quasi olio Sì Fluido e bello Copre tranquillamente Tutto E Ripassando sopra Diventa sempre più intenso Il colore Il mio cuore Alla rovescia Io ho Da questo lato La faccia Quindi lo sto facendo Il contrario Allora Vedete Bello È pronto Adesso Vi faccio vedere Cos'è la cosa Fantastica Di questo colore Naturalmente Oltre al fatto Di non aver dovuto Impiastricciare Che per me Non è proprio Un 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 bene Perché a me piace Impiastricciare Coi pennelli E coi colori Però è un bene Quando siamo fuori casa Quando i bimbi Magari Sono in spiaggia E non vogliamo Portare dietro Un ambaradano di cose Quando andiamo In villeggiature E non vogliamo Portarci dietro L'inferno Pennelli Quando siamo Magari In posti Dove non possono Sporcare con acqua Dove c'è pericolo Che bagnando Qualcosa Rovinino E allora Si possono dare Queste tempere E adesso Guardate Tadà È asciutta Guardate un po' È asciutta Cioè Bastano 5 minuti Ancora qua È un po' bagnata Ma questa È C'ho anche Residuetti di colore Vedete Che sono notevoli Ma questa Il grosso Il grosso È già asciutto La cosa fantastica Di questi colori È che A stesura Olè E ne ho messi 5-6 strati Dopo 3 minuti No nemmeno Quanto ho parlato poco fa Un minuto Provo Ecco Già da adesso Sono asciutti Tranne dove si creano i grumi Ecco Che se stendete Automaticamente Si asciugano Ma sono Totalmente Asciutti Proviamo il verde Altro colore Verde 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 Ecco Sono anche belli Trasparenti Cioè Sono traslucidi Come colori Coprono Ma si intravede Sotto il fondo Non so se Non so se Si può notare Nascono come colori Per bimbi Quindi Non immaginate Prestazioni Di chissà che tipo Ma guardate Sto passando il dito E sentite Dal rumore Lo sto passando Bello forte Il mio dito Non è sporco Di verde E' sporco Del rosso Di prima Questo è totalmente Asciutto Ecco Sto facendo Una bella pressione E questo Si sta diventando Sempre più Asciutto Ma proviamoli Sulla tela Perché ombretta E' curiosa Benissimo Ho qui La mia tela E ho qui Il mio colore Innanzitutto Proviamo Il verde Guardate Un po' Non è fantastico E' coprentissimo Coprentissimo Certo Si consuma Veloce Veloce Proviamo Il rosso Eh si E vediamo Sulla tela Il tempo Di asciugatura Vediamo Il giallo Do prendo In pressione Bimbi Il giallo Bellissimi Questi colori Arancio Sono Veramente Ma guardate Coprentissimi Ma belli Rosa Ma belli Davvero Sulla tela Sulla tela Si comportano Guardate Un po' Benissimo Eccoli qua Vediamo Il viola Bellissimi E vediamo La sovrapposizione Si sovrappongono Si sovrappongono Magari Non tutti Non credo Che tutti Riescano A sovrapporsi Vediamo Un po' Io sto facendo Colori scuri Ovviamente Su colori Chiari Perché Non penso Che un colore Chiaro Sullo scuro Prenda Il sopravvento Infatti Si miscela Si miscela Ma non prende Il sopravvento Quindi non è coprente Come un olio Né come una tempera Vera e propria Nel senso che La tempera Una volta che la fai asciugare E immetti Il nuovo colore Copre quello vecchio Anche perché Sul cotone Come vedete Rimangono bagnati Più a lungo Voglio fare questa prova Nuovamente Sulla carta Mi scuserete Riprendo il cuore Di prima E riprendo Un colore chiaro Tipo l'azzurro Perché Con un giallo Sono convinta Sin da adesso Che non riuscirà E passo sopra No vedete Non crea Azzurro Sul rosso Sono colori Ecco Per i piccoli In questo senso Nel senso che Loro faranno Il cielo Un attimo Che sistemo la punta Così il bimbino Gli arriva perfetto Faranno il cielo L'azzurro rimane così Allora Sulla carta Rimangono molto Traslucidi Si asciugano Immediatamente Quindi Mamme State tranquille Sono lavabili Quindi state tranquille Anche per i vostri divani E tutto Si asciugano Vedete Immediatamente Quello di prima Oramai Tutto asciutto E di conseguenza Hanno una resa Velocissima Scusate i patafocchi Sulla stoffa Invece Quindi sulla tela Tendono a rimanere Più bagnati Diventano Molto Più Intensi Come colore Rimangono Bagnati Più a lungo Ma Anche Belli Più a lungo Secondo me Perché si E' vero Che asciugano Asciugano meno Velocemente Asciugheranno Comunque Sempre più Velocemente Dei colori Normali Perché avranno Degli essiccativi Più volatili Però Nello stesso tempo Si possono fare Dei bei lavori Bidimensionali Quindi non cercate La sfumatura Non cercate Prestazioni da Colori Da adulti Sono colori Da bambini Che hanno Però Questi Questi Bei toni Queste belle Intensità Io mi diverto Un sacco A fare queste prove Allora Proviamo Il verde Ma guardate Che bello E Mentre ci sono Faccio Un alberello Va Il verde E guardate Qua Che meraviglia E a questo punto Mi dovete Prestare Un po' Di marrone Ma questi Qui Non sono Sample Sono Molto Più carini Vedete Come escono Con la punta Con la punta Addirittura Mi dispiace Rovinarvelo Ma se si deve Adesso Adesso Invece Qui Siamo Su una tela Cerata Quindi Una tela Preparata Come quella Come quella Da pittura Mentre Questa Era Una tela Non cerata Quindi Più Una Stoffa E Sulla Stoffa Vedete È passato Adesso Cinque minuti Il tempo Del video Sono totalmente Asciutti Anche Qua Adesso Invece Vediamo Quanto ci stanno Ad asciugare Su una tela Appunto Da Da pittura Normale Quindi Quella era Stoffa Si può dire Anche qui L'intensità È ottima Prendiamo Il nero Che il nero La dice lunga Ottimo Sì È un bel Un bel Nero coprente Molto Molto carini Per i vostri bimbi Questi colori Se voi Volete fare Qualcosa Di ultra Moderno E ultra Colorato Sono bellini Anche Tenete presente Che sono dei colori Con prestazioni Per piccoli Che per i piccoli Sono colori A prestazione Veramente Avanzata E Io ci farò Qualche cosa Anche con i miei due colori Perché Ne comprerò Qualche altro Tono E penso di Avere un'idea Un po' optical Per l'utilizzo Di questi colori Che mi piace Mi piacciono Mi piacciono Come lucentezza Vivacità Sulla tela Patinata Stentano sempre di più Ad asciugare Vedete Quindi L'utilizzo Studiato Per loro Sicuramente È La signora Carta Sulla carta Vanno Veramente Veramente Lisci come l'olio E questa è carta Pochissimo assorbente Quindi Asciuga anche Meno velocemente Del foglio Da disegno Eccoli qua Sì Sulla Sulla carta Hanno l'utilizzo Migliore Si può dire Che già Io lo vedo Proprio Si asciugano Già sono asciutti Incredibile Questa cosa Mi piace Troppo Hanno un po' La resa Del colore A cera Quando è passato Bene 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 Quando si ha Quando si ha la voglia Di lavorarlo molto Ecco Bellissimi Mi piacciono Per i vostri bimbi Sono veramente Qualcosa Di carino 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 Non vi sporcheranno Per casa Non ci saranno Bicchieri caduti Oh mamma Mi è caduta l'acqua Del bicchiere Ci sarà solamente Tanto colore E tanto divertimento Ok Ho provato tutti i colori Adesso sto provando A passare il bianco Sul nero E questo Incredibilmente Colora E coprentissimo Quindi Vince sul colore scuro Incredibilmente Ma proprio bella Sta cosa Io non pensavo Pensavo fosse fatto Solamente per i cartoncini Neri Invece Come potete vedere Spezza i colori Il bianco Wow Naturalmente Poi va pulito Ma bellissima Questa cosa Bello Bello Quindi è possibile Utilizzare il bianco Per Smorzare Vedete Su tutti Sull'arancio Che era rimasto Un po' Bagnato No Cioè da asciutto Si passa tranquillamente Sul colore E lo copre Benissimo Anche questo È un punto A favore Ok Allora proviamo L'utilizzo del bianco Anche sulla carta E vediamo Cosa succede E anche qui Come vedete Il bianco È coprentissimo Basta passarlo E sul tono scuro Alla meglio La cosa Mi stupisce Tantissimo Cioè Non Sinceramente Non credevo Potesse Ok E vedete Il colore rimane pulito Perché gli altri sotto Sono asciutti Il bianco È Wow Veramente Bello Ok Troverete Qualche approfondimento Qualche notizia in più Sul mio blog Come al solito Qua sotto Vi metto il link Spero che questa review Vi sia stata utile E spero che Questi colori Arrivino nelle case Di un bimbo desideroso Di dipingere il mondo E quindi Procediamo Vi aspetto di là Avete visto che bella Questa tempera Mmm Quanto mi dispiace Doverla regalare ai bambini Ma devo Devo per forza Perché ogni cosa Che viene regalata Ad arte per te È una cosa Che arte per te Regala a te E allora Proverete voi stessi Ad usare Questa tempera Solida Che io trovo Veramente Veramente carina E divertente Come idea La distribuisce La Wigo In tutta Italia Perché vi dico questo? Perché se volete Trovarla Basta andare Sul sito Della Wigo Di cui vi metto Il link Qua sotto Nel box Informazioni E lì Troverete la lista Degli esercenti Che vendono Questo prodotto O quantomeno Che trattano I prodotti Della Wigo Quindi potrete Degualmente Chiedere a loro Di farvelo avere A Catania Se volete trovarlo Lo troverete Nel negozio Di Belle Arti Accademia Che è in Viale Vittorio Veneto Un negozio Veramente carino Dove io mi servo spesso E che ha conduzione familiare Perché vi dico questo? Perché molto spesso I negozi di Belle Arti Sono dei negozi enormi Molto impersonali Dove c'è una grandissima Quantità di materiale In cui uno si sente Un po' disperso Invece Questo negozietto Di Catania È un negozietto Piccolo Molto concentrato Dove marito e moglie Vi introdurranno Nel mondo dell'arte E mi va Di farveli conoscere Proprio perché Innanzitutto Sono simpaticissimi Sono gentilissimi E grazie a loro Ho avuto il contatto Per avere queste tempere E potervele regalare Quindi vedete come Si instaura Un rapporto personale Con un esercente Che può anche Consigliarvi Nella maniera più utile Per sperimentare Nuove forme d'arte Quindi Prediligete I piccoli negozi Piuttosto che Le grandi catene Perché lì Se siete ancora neofiti E avete voglia Di un contatto personale Con dei consigli veri Potete trovare Comunque Nel box info Vi lascio anche L'indezzo di Accademia Invece Torniamo a noi Gli instant Un prodotto Versatile Buono Abbiamo parlato Per i bimbi Si per i bimbi E' molto molto valido Ma sinceramente Molto presto Vorrò provarli Anch'io Come finitura Di Opere a pastello Mi intriga molto Questa lucentezza Che il colore ha E mi interessa Poi sapere Oggi Essendo un nord Per i bambini Non ho fatto Una recensione sedissima Non mi metto lì Ad osservare Il tempo Ad osservare La resa nel tempo Perché capisco Che un prodotto Per i bambini Lascia molto Il tempo Che trova Nel tempo I bambini Agiscono Sull'immediato Quindi non gli interessa Solo lo disegno Duri nel tempo Oppure no Ma invece Io sto osservando I colori Alla lunga E molto E sul blog Perché sto girando Il video Un po' prima Di quando poi Lo pubblicherò Sul blog Vi racconterò Anche della resa Nel tempo Quindi Un mesetto Così Del Del colore Adesso Mi sembra Molto molto carino E può dare Degli effetti Veramente Simpatici Anche Ai lavori Dei grandi E un po' La rivisitazione A tempera Di quello Che erano Gli oil bar Per gli oli Insomma Beh Naturalmente Questo è sempre Un prodotto Di cartoneria Per bimbi Bene Adesso Veniamo alle cose Importanti Come potrete Cari bimbi Miei adorati Riuscire ad avere Questa confezione Di tempera solida Molto Molto Semplice Fate lasciare Un commento Da parte vostra Qua sotto Alla vostra Mamma Un commento Due commenti Tre commenti Tutti i commenti Che vorrete Con i bimbi Facciamo così Dove Mi dovete dire Però Come vi chiamate Quanti anni avete Se avete fratellini Raccontatemi un po' Di voi Voglio sapere Quanti sono E chi sono I bimbi Che seguono Di arte per te Dopodiché Un giorno Che vi scriverò Qua sotto Nel box informazioni O vi metterò Anche qui In annotazione Farò Farò L'estrazione Tra tutti i commenti Che mi saranno Arrivati Per partecipare Una sola regola Essere iscritti Al canale Di arte per te Cosicché Io so Che questo regalo Arriverà A un bimbo Che mi segue Sempre Bene Non mi rimane Che salutarvi E augurarvi In bocca al lupo Da ombretta Ed arte per te Tutto Arrivederci Di arte per te